Altigi regionale per sordi, i nuovi casi positivi covid registrati in Toscana sono 824 su 19.725 test di questi, 11.389 tamponi molecolari e 8.336 test rapidi. Il tasso di nuovi positivi è del 4,18%. Il dato dei nuovi casi è più basso rispetto a ieri, a fronte di un aumento dei test, con un tasso di positivi che scende. E intanto il presidente Gianni su Facebook scrive la Toscana è la regione più virtuosa per l'utilizzo di vaccini AstraZeneca, oltre il 96% delle dosi sono già state somministrate con una media nazionale del 20%. Sul fronte invece dei decessi oggi sono 20. Una squadra di 97 medici di famiglia appartenenti a medicine di gruppo di diverse aggregazioni territoriali è già a disposizione per dare avvio alla campagna vaccinale rivolta agli ultraottantenni a piano ritmo. Da oggi a Prato, all'edificio 2 del centro Pegaso ex Creaf, inizieranno le vaccinazioni per chi appunto ha più di 80 anni con l'utilizzo di Pfizer. Sempre presso questa struttura, al primo piano, proseguono anche le somministrazioni dei vaccini AstraZeneca per il personale delle scuole e per le forze dell'ordine, con 5 postazioni a disposizione. Sono inoltre in programma le vaccinazioni presso le sedi distrettuali e gli ambulatori dei medici di medicina generale. Scuole medie e istituti superiori chiusi a Siena per una settimana a partire da domani e attivazione della didattica a distanza per gli studenti. È quanto previsto nell'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Siena De Mossi per tutte le scuole pubbliche nel territorio comunale. Una decisione arrivata alla luce dei dati relativi alla diffusione del contagio da Covid tra i banchi, tra studenti e personale docente e ausiliario, che ha portato fino ad oggi alla messa in quarantena di 31 classi, tra medie e superiori. Restano aperte scuole materne ed elementari. Il cadavere di un uomo di età apparente tra i 60 e i 70 anni è stato recuperato questa mattina intorno alle 8 dai Vigili del Fuoco nel fiume Arno a Firenze, esattamente all'altezza di Via delle Funga, nella zona di Rovezzano. Sul posto sono arrivati i carabinieri. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia. La presenza del corpo è stata segnalata da un passante. Incidente sul lavoro questa mattina in un'area boschiva nel comune di Abetone Cutigliano. Siamo in provincia di Pistoia. Erano circa le 12 quando un 21enne, residente a San Marcello Piteglio, originario però della Romania, dipendente di un'azienda agricola locale, durante l'attività di taglio del bosco è stato colpito alla schiena da un grosso ramo, caduto da un albero. Il colpo ha causato un trauma alla spalla destra. Intervenuti sanitari del 118, deciso il trasferimento del ferito, che è sempre comunque rimasto vigile, non è in pericolo di vita. Si trova all'ospedale Fiorentino di Careggi. Un ordigno artigianale è esploso questa mattina intorno alle 4 davanti ad una pizzeria di Firenze in via Gabbugiani, nei pressi della stazione Leopolda. Danneggiate le pareti esterne ed il bandone del locale. Sul posto è intervenuta per i rilievi la scientifica dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Bandiera a mezzasta per le vittime dell'attentato in Congo, Firenze si unisce al Cordoglio per la scomparsa dell'ambasciatore Luca Tanasio di Vittorio Iacovacci e Mustafa Milambo e chiede che si faccia chiarezza al più presto. Onoriamo per sempre la loro memoria. Così il sindaco di Firenze Nardella su Twitter. Ed è di Prato l'unico italiano sopravvissuto all'agguato in Congo. Si tratta di Rocco Leone, direttore aggiunto del World Food Programme, che è uscito illeso dalla sparatoria e adesso si trova ricoverato in ospedale, in stato di shock ma in buone condizioni fisiche. La moglie di Leone che abita a Firenze ha potuto parlare con il marito. L'agguato è avvenuto ieri mattina a un convoglio diretto da Goma alla cittadina di Rucciuru. Nella località di arrivo avrebbero dovuto visitare un progetto multisettoriale finanziato dall'Agenzia delle Nazioni Unite. Rocco Leone, 56 anni, ha studiato al Cicognini e poi si è laureato in matematica. La tramvia verso Campi Bisenzio costituisce la prima delle tramvie che segue una dimensione extraterritoriale di Firenze, nel quadrante nord-ovest della città. Questo sistema di trasporto pubblico si è rivelato vincente ed è diventato un modello a livello internazionale. Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Gianni parlando del progetto definitivo del sistema tramviario fiorentino della linea 4.1 e di quello preliminare della 4.2 per Campi Bisenzio. Noi crediamo, ha aggiunto Gianni, al cosiddetto metodo Metro Tram, il comune di Campi Bisenzio con la tramvia e il Metro Tram Peretola-Pecci che acquista un bacino di trasporto pubblico fortissimo. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana, sereno o poco nuvoloso. Possibile formazione di foschie e banchi di nebbia nelle pianure durante la notte e nelle prime ore del mattino. I venti sono deboli, i mari poco mossi e infine le temperature stazionarie o in lieve aumento le massime. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci, buon proseguimento di serata con Toscana TV. Grazie a tutti.